È stato ucciso qui, in questo piazzale, a pochi metri di distanza dall'ingresso del condominio dove risiede Giuseppe Piazza, 55 anni, pluripregiudicato, originario della Sicilia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo di Monza e della compagnia di Seregno che indagano sul delitto, l'uomo sarebbe stato visto discutere animatamente con un'altra persona, qui dove, in una frazione del comune Brianzolo di Besana Brianza, stava per essere allestita una sagra cittadina. Qualcuno ha udito gli spari, poi ha visto l'uomo crollare a terra inerme e un'altra persona, dai capelli brizzolati, fuggire da sola a piedi.